Salve a tutti e benvenuti a questo secondo filmato dedicato al mondo del computer quindi al mondo dell'informatica di base, al mondo della struttura del linguaggio del computer Questa seconda sessione sarà dedicata io direi all'approfondimento di alcune cose che sono già state viste in un certo senso nel primo filmato ma che adesso andremo a approfondire e ad espandere ovvero il sistema binario La volta scorsa abbiamo visto bene o male quale sono le unità di misura più diffuse nel mondo dell'informatica byte, bit, megabyte, kilobyte, eccetera eccetera Per parlare di questo abbiamo dovuto introdurre il concetto di bit ovvero l'unità primaria di informazione del computer nella quale è possibile scrivere o 0 o 1 0 o 1 perché, come si diceva, il computer utilizza e capisce il sistema binario Ma come si conta nel sistema binario? Come si esprimono i numeri? Come funziona questo sistema binario? Questo sarà quello di cui ci occuperemo oggi affrontandone ovviamente solo le basi dopo la sigla Bene, eccoci di nuovo qui insieme alla scoperta del sistema binario Vediamo un po' Andiamo a dare una rapida occhiata perché in teoria non è difficile è poi l'applicazione concreta della teoria che diventa complicata nella realtà ma la teoria in quanto tale non è poi così complicata Allora, ci aiutiamo con questa schermata di Excel che io mi ero preparato per farvi vedere un pochino la differenza Però, come si fa in generale, prima di tutto andiamo a dare un'occhiata al sistema decimale che è quello che usiamo tutti ogni giorno e dal quale siamo talmente abituati che probabilmente non ci riflettiamo più di tanto sopra Effettivamente, come funziona il sistema decimale? Si chiama decimale perché è a base 10 Infatti abbiamo queste 10 cifre, considerando lo 0 che vanno dall'1 al 9 che sono le cifre primarie 10 considerando lo 0 Cosa succede quando finiscono le cifre primarie? Si arriva, 1, 2, 3, 4, 0 Si arriva al 9 A questo punto, per andare avanti si torna allo 0 e si aggiunge un 1 nella posizione precedente che sono le decine A questo punto la procedura continua da 0 fino a 9 con 1 nelle decine fino a che si arriva a 19 A 19 il processo ricomincia da capo solo che torna lo 0 ma le decine questa volta saranno 2 E così avanti, avanti, avanti 30, 40, 50, eccetera, eccetera fino a che non si arriva a 90 Una volta arrivati a 99 scatta un meccanismo, diciamo, del riporto per il quale entrambi i 9 tornano a essere 0 e si aggiunge una terza cifra che è il centinaio E a questo punto tutto si ripete da capo fino a che non saremo arrivati al 999 A quel punto si aggiungerà una quarta cifra ancora più sulla sinistra che saranno le migliaia e questi 3, 9 per il meccanismo del riporto tornano ad essere 0 E così avanti all'infinito Ma il sistema binario, quello che usa il computer come funziona? La teoria più o meno è sovrapponibile a quella del sistema decimale Solo che bisogna sostituire le decine con i binomi le duine, i binomi non so come chiamarli Perché? Perché abbiamo solo due cifre Se noi cominciamo a contare abbiamo 0 e fin qui tutto a posto Dopo lo 0 viene l'1 e fin qui tutto a posto Però cosa succede nel sistema binario? Che abbiamo già finito le cifre a disposizione perché ne abbiamo solo due 0 e 1 E quindi cosa succede? Che è a questo punto che scatta il meccanismo che del sistema decimale scatta quando si arriva al 9 ovvero all'ultima cifra della decina A questo punto succede che con un solo bit parlando di computer abbiamo già finito le combinazioni possibili 0 e 1 Finita A questo punto cosa succede? Andiamo ad aggiungere un secondo bit mettendo un 1 qui e questo torna a 0 Quindi questo sarà il 2 E questa sarà la colonna delle duine dei binomi insomma dei gruppi di 2 che valgono 2 Teniamo presente questo anche nel calcolo dei numeri successivi Ok? 0 1 2 Il 3 Questo sarà sempre 1 Il 3 Questo torna a essere 1 A questo punto però abbiamo esaurito di nuovo le combinazioni e per esprimere il 4 toccherà nuovamente aggiungere una cifra sulla sinistra Dunque se questa colonna valeva 2 questa colonna come si vede vale 4 e le quartine in pratica allora 1 e questi 2 per il meccanismo del riporto tornano ad essere 0 e questo è il 4 quindi abbiamo li scrivo anche qua di fianco perché di là sono troppo lontani magari può essere difficile fare il confronto visivo diciamo 0 così tanto per avere un'idea ok a questo punto abbiamo 0 1 2 3 costituito da 1 1 4 costituito da 1 0 0 il 5 sarà così il 6 sarà così il 7 sarà così a questo punto come vedete sono tutti 1 e abbiamo finito di nuovo le combinazioni possibili e quindi dovremo andare a aggiungere nuovamente un 1 nella parte più sinistra e dunque continuando il ragionamento di prima questa sarà la colonna che vale 8 e quindi l'8 si esprimerà così e questi per il meccanismo del riporto diventano 0 il 9 sarà 8 0 0 1 il 10 sarà 8 più 2 più 0 l'11 sarà 8 più 2 più 1 il 12 8 più 4 più 0 più 0 il 13 sarà 1 1 8 più 4 più 0 più 1 14 sarà 1 1 1 0 mentre il 15 sarà 1 1 1 1 e a questo punto nuovamente abbiamo finito le combinazioni possibili perché sono tutti 1 e toccherà di nuovo aggiungere una unità nella casella più a sinistra e qui abbiamo il 16 che è da solo è già 16 quindi non ha bisogno di nient'altro a questo punto dovreste aver capito che nel sistema binario quando vi trovate davanti a una sfizza di 1 per cui avete un numero con 1 1 1 1 dove sono tutti 1 succede una cosa simile a quando nel sistema decimale avete tanti 9 avete non so 19.999 sono tutti 9 allora è il momento di aggiungere un'unità in più al primo posto e passano a essere tutti 0 e si fa il cambio nel sistema binario questo succede quando avete tutti 1 queste due situazioni sono in un certo senso equiparabili per principio 17 sarà 16 più 1 18 sarà 16 più 2 19 sarà 16 più 2 più 1 20 sarà 16 più 4 e così via in questo senso fino a che saremo arrivati a 31 con tutti 1 se io qui metto anziché 20 31 il 31 sarà 31 tutti 1 perché abbiamo 16 più 8 più 4 più 2 più 1 che fa 31 dopodiché per esprimere il 32 dovremo aggiungere di nuovo una cifra nella colonna più a sinistra e questo come ormai avrete cominciato a intuire sarà la colonna che vale 32 questo fino a che saremo arrivati al 63 dopodiché sarà necessario aggiungere un altro 1 per esprimere il 64 fino a che non saremo arrivati al 127 e sarà necessario aggiungere un nuovo 1 per esprimere i numeri dal 128 in avanti e così via quindi 31 abbiamo qui 32 qui 64 e qui 128 ovviamente non ve li faccio vedere tutti uno per uno perché staremo qui all'infinito ma è per farvi capire il senso ecco qua perché sono arrivato proprio a questo 128 perché volevo farvi vedere che calcolando i numeri con il sistema binario praticamente piano piano si ricostruisce la tabella che vi avevo già mostrato la volta scorsa parlando del byte il byte sono l'unione di 8 bit e vi dicevo che poteva esprimere numeri fino al 255 che poi in realtà sarebbero 256 combinazioni compreso lo 0 quindi sarebbe da 0 255 con un totale di 256 combinazioni possibili ma questo in pratica è quello che avevo fatto vedere già un'altra volta parlando del byte formato da 8 bit uniti l'uno di fianco all'altro mentre vi facevo vedere il conteggio di alcuni esempi cioè in pratica qui abbiamo 128 64 32 16 8 4 2 e 1 che sono gli stessi numeri che abbiamo visto nella tabella della scorsa puntata quindi a questo punto avrete capito perché il 15 sono tutti 1 perché abbiamo 8 più 4 che fa 12 più 2 che fa 14 più 1 che fa 15 quindi io fin dall'inizio ho dato per scontato questi valori qua perché se vi ricordate io ho aggiunto la seconda unità quando dovevo esprimere il 2 quindi questo vale 2 ho aggiunto la terza unità quando dovevo esprimere il 4 quindi questo vale 4 ho aggiunto la quarta unità quando dovevo esprimere l'8 quindi questo vale 8 e così via fino a 128 e ovviamente si va avanti in questo senso qui un po' all'infinito e ovviamente dovendo esprimere i numeri binari in byte normalmente lo 0 non sarà un semplice 0 ma sarà dovendo riempire tutte queste caselle che ancora sono vuote sarà 0 0 0 0 0 0 0 unione di 8 0 l'1 sarà 7 0 più 1 il 2 non è semplicemente 1 0 ma ci sono 1 2 3 4 5 6 0 dopodiché c'è 1 0 quindi il 2 tecnicamente è 0 0 0 0 0 0 1 0 il 3 e via e via così fino a riempirli tutti ovviamente ecco qua questa è la base della numerazione nel sistema binario ma se io volessi esprimere un numero qualunque in sistema binario partendo dal numero decimale come faccio senza tutte le volte fare questa pappardella di tabella qua la tecnica è molto semplice cominciamo col dividere il nostro numero che per esempio è 19 che ce l'abbiamo qua quindi abbiamo già un riscontro magari adesso lo evidenzio un attimino così viene fuori meglio eccolo qua se io ho 19 lo divido per 2 cosa mi viene fuori? mi viene fuori 9 e il resto è 1 perché viene 9 18 più 1 19 e quindi comincio con lo scrivere 1 se io faccio poi 9 diviso 2 mi viene fuori 4 e di nuovo resta 1 e quindi torno a scrivere 1 se io faccio 4 diviso 2 mi viene 2 e non resta niente e quindi metto 0 se io faccio 2 diviso 2 viene 1 e non resta niente e di nuovo metto 0 dopodiché ho avanzato 1 e quindi scrivo 1 vedete che il numero di base è venuto fuori avevo 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 lo stesso si potrebbe fare per esempio con il 17 non so per esempio 17 diviso 2 viene 8 con il resto di 1 e quindi scrivo 1 8 di nuovo diviso 2 viene 4 e non resta niente per cui scrivo 0 4 diviso 2 viene 2 e non resta niente di nuovo quindi di nuovo scrivo 0 2 diviso 2 viene 1 e di nuovo non resta niente quindi scrivo di nuovo 0 a questo punto mi è rimasto sempre questo 1 e quindi vado a scrivere 1 e qui abbiamo 1 0 0 0 1 e infatti 17 è 1 0 0 0 1 questo qua ovviamente senza considerare gli zeri che sono prima diciamo del numero fondamentale quelli si aggiungono per arrivare al byte alle 8 cifre è chiaro ma i numeri che contano sono questi in questo caso prima di chiudere volevo fare un rapido accenno anche al contrario ovvero a come partendo da un numero binario si può arrivare al suo equivalente decimale in un certo senso potreste già essere in grado di farlo se tenete presente tutto quello che è stato detto fino adesso considerando la famosa tabella con i multipli di 2 ovvero 0 2 4 8 16 eccetera eccetera che abbiamo visto fino adesso se noi consideriamo un numero quale questo qui di questo esempio ovvero 1 0 0 1 0 1 1 1 partiamo da questo numero binario come si fa a tradurlo in decimale è semplice noi abbiamo questi 8 spazi con 8 numeri e dobbiamo considerare gli stessi numeri potenze di 2 che abbiamo visto fino adesso ovvero partendo da destra questa è la colonna delle unità e vale 1 1 per 2 alla 0 ricordiamoci che se noi eleviamo qualunque numero allo 0 quindi potenza 0 viene fuori 1 il risultato quindi 1 per 2 alla 0 viene 1 e quindi il primo numero vale 1 il secondo abbiamo detto che è la colonna delle duine dei binomi quindi 1 per 2 alla prima e quindi varrà 2 poi abbiamo la colonna dei 4 e questo varrà 4 poi abbiamo la colonna degli 8 ma qui non lo abbiamo perché è 0 poi abbiamo la colonna dei 16 e quindi questo varrà 16 poi abbiamo la colonna dei 32 e dei 64 che però non le abbiamo perché sono 0 infine abbiamo la colonna dei 128 che sarebbe 1 per 2 alla settima come vedete in questa illustrazione qui quindi non dobbiamo fare altro che sommare 1 più 2 più 4 più 16 più 128 per avere il nostro risultato che è 151 quindi come vedete è in un certo senso ancora più facile passare da binario a decimale bene questa era una rapida introduzione a come si calcola nel sistema binario poi ovviamente ci sono le moltiplicazioni le divisioni le sottrazioni eccetera eccetera ma questo diciamo che a livello di informatica io non credo che serva in maniera particolare l'importante è capire come funziona il sistema binario come si esprimono i numeri nel sistema binario in modo da capire come mai c'è proprio questa particolare sfilta di 0 e 1 messi in quel particolare sistema lì e viene fuori che lo schema fondamentale va a seconda dei multipli di 2 2, 4, 8, 16 32 eccetera eccetera bene per il momento io non vorrei mettere troppa carne al fuoco quindi anche questa puntata io la farei finire qui spero che possa essere interessante ovviamente il sistema binario in quanto tale così non vi serve a niente è solamente per approfondire un pochino il linguaggio di base nella quale si esprime il computer è chiaro poi sicuramente questa cosa vi viene utile poi andando a parlare di altri concetti base di informatica a questo punto io spero che il filmato vi sia piaciuto spero di poter suscitare un po' di interesse con questo nuovo gruppo di filmati con questa nuova rubrica che mi sono inventato inventato non è che me la sono inventata io ma ho pensato di farla anche per soddisfare la mia personale curiosità perché anche io ovviamente ero a digiuno di queste nozioni anche io non sapevo niente del sistema binario e quindi la sto trovando molto avvincente da studiare e di conseguenza lo considero avvincente da comunicare a chi mi segue spero di riuscire a coinvolgervi tanto da trovare interessanti queste piccole lezioni di informatica di base se è così lasciate un mi piace iscrivetevi al canale date un'occhiata al mio sito con tutto l'elenco dei filmati che ho pubblicato eccetera eccetera e ci vediamo alla prossima volta grazie a tutti